e salve a tutti io ora facciamo livello 4 della giungla profonda cosa da qui in poi non ci sono più rocce ma così non posso avanzare cosa faccio? è il momento di darti questo la cosmonave della polizia galattica faccio schifo enti alla voce di Marco vai al gioco è facilissimo con la cosmonave è anche bella in più quando si trova la cosmonave toccatela possiamo anche sparare veloce ok a questo livello si muove la visuale da sola ok accrosoldo assicurato quindi dalla prima gemma tocca cazzo comunque non ho trovato le torre placche ok questi sapete sono i boh glavolo bavo non mi ricordo bene il nome boom 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 c'entro ancora basta oh oh le mine sono 11 e vai secondo oro placca del livello ok boss mini boss non dovete fare altro che sparargli infatti si vede che vai cazzo vai cazzo battuto yuppie livello completato ok un acrosoldo oltre un po' se ne fa un altro e abbiamo finito anche questo livello stiamo andando benissimo ok ci vediamo al prossimo video con go go cosmo cozzo ciao 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 ciao